ATP Barcellona, Passaro si arrende Cerondolo, fuori al secondo turno. Barcellona si ferma al secondo turno il sogno di Francesco Passaro nel Barcellona Open Bank Sabadell, ATP 500 Montepremi 2. 722, 480 euro, che si sta disputando sulla terra rossa delle Real Club de Tennis Barcellona 1899. Il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il 22enne perugino, numero, 125, del ranking. È stato battuto dall'argentino testa di serie numero, 15, Francesco Cerondolo. Il 24enne di Buenos Aires si è imposto nettamente con un 6-2-6-2 in un'ora e undici minuti. Rimane dunque solo Lorenzo Musetti, che sfiderà Kubler, come altro azzurro per raggiungere gli ottavi insieme a Sinner. Virgola.